Eccoci qua, buonasera, 8 agosto, associazione noi che credevamo la banca polaria di Vicenza. Per tutti i risparmiatori ci sono grosse novità in queste ore, come abbiamo anticipato in un altro video qualche giorno fa. Era pronto il terzo decreto attuativo per dare il via ai rimborsi ai risparmiatori e in queste ore è arrivata la firma di tria che mancava, come avevamo detto qualche giorno fa. Mancano ancora due passaggi, uno in corte dei conti e l'altro nella pubblicazione della gazzetta ufficiale per rendere ufficiale attiva la norma e allo stesso tempo il portale. Da lì poi scatteranno i 180 giorni di tempo per poter fare richiesta al fondo di indenizzo del 30% che ricordiamo riguarda tutti. Tutto questo lo spiegheremo in maniera approfondita, penso, in una prossima assemblea pubblica. È importante che ricordiate che mancano ancora due punti fondamentali, quindi non facciamoci pandere alla frenesia. Ci vorrà ancora qualche giorno di pazienza, appunto il passaggio in corte dei conti e poi la pubblicazione in gazzetta. Da quel momento sarà attiva e sarà possibile fare sul sito consa per la richiesta di rimborso. State connessi con noi, guardate la gazzetta ufficiale, perché non appena sarà tutto attivo faremo un'assemblea pubblica per spiegare bene come fare, in che maniera e con quali documenti. Grazie mille, buona serata e avanti così.